Io sono un innamorato dell'Africa, che considero il continente del futuro. Noi non siamo il razzismo, noi siamo il contrario del razzismo. Io con la mia chiesa ortodossa italiana ho fatto un trattato di intercomunione con la chiesa copta, etiope, eritrea. Il problema non è l'Africa, il problema è la criminalità che viene dall'Africa, il problema è la mafia nigeriana, il problema è la mancanza di sovranità dei popoli africani.